Vittoria doveva essere e vittoria è stata, e poco importa se il tabellino della gara riporta il numero 5 nella casella degli espulsi. A fare da cornice alla quarta rocambolesca vittoria consecutiva alla Massimino per i rossazzurri, una pioggia di gol, cartellini ed emozioni. In una gara che ha rilanciato gli etnei in classifica, in quella zona play-off che oggi riaccende legittimamente sogni e ambizioni di un gruppo ed una città, che è inutile negarlo, neanche nei momenti più bui avevano smesso di credere che qualcosa sarebbe cambiato. Oggi dunque è il momento del riposo, ma anche della riflessione, quella che porta consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie risorse, con la tranquillità di chi al nono posto, a quota 15, può finalmente iniziare a guardare verso l'alto senza doversi solo guardare alle spalle, senza dimenticare che sul campo i punti raccolti sono ben 22. Un bottino che oggi racconterebbe la storia di una squadra ad una manciata di punti dalla vetta della classifica e con un obiettivo dichiarato ben diverso dalla semplice sopravvivenza nella categoria. Con questo spirito Rigoli preparerà la prossima partita esterna in casa della Virtus Francavilla, impegnata questa sera a Taranto, dovendo fare i conti con le assenze per squalifica di Bergamelli e Drausio.